Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e sono attima anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Nel vasto panorama del true crime purtroppo rientrano anche i casi che coinvolgono i giovani durante l'adolescenza, una fase delicata e cruciale della vita, in cui i confini tra gioco e tragedia possono risultare sottili. È il 1982 e ci troviamo a Milwaukee, una città dello stato del Wisconsin negli Stati Uniti. Qui vive la tredicenne Carrie Ann Jopek, nata il 17 agosto 1968. Sua madre si chiama Carolyn, mentre non è noto il nome di suo padre. All'epoca dei fatti, nel 1982, i genitori di Carrie si sono già separati, ma la tredicenne, pur vivendo con la mamma, continua a sentire spesso il padre. E lo vede anche. La madre di Carrie ha un nuovo partner che si chiama Fred, il quale abita con la compagna Carolyn e le sue due figlie. Carrie è la maggiore, infatti ha una sorella più piccola di nome Maggie. Carolyn descrive la sua primogenita come una ragazza bellissima, creativa e con una evidente vocazione per l'arte. Carrie ama disegnare e cantare, è intelligente e prende ottimi voti a scuola. È il tipo di ragazzina che può rendere concreta qualsiasi cosa si mette in testa, perché è particolarmente testarta. A Carrie le cose piace farle a modo suo. Certo, è un po' ribelle prepotente, talvolta d'altronde è un adolescente. Tutti, crescendo, abbiamo attraversato una fase di ribellione in cui ci dava noia ascoltare ogni direttiva dei nostri genitori. E Carrie non è da meno, però, nonostante i frequenti litigi, è molto legata sia a sua madre che al suo patrigno Fred. Nel complesso la si può descrivere come una ragazza gentile, socievole e molto chiacchierona. Come detto, Carrie e la sua famiglia vivono a Milwaukee, precisamente a Mitchell Street. Abitano in un quartiere grazioso e sicuro dove tutti si conoscono e sono in sintonia. I bambini della zona giocano sempre tutti insieme e Carrie non fa eccezione, esce spesso con i coetanei a parecchi amici. Il 16 marzo 1982 è un giorno comune per Carrie, che frequenta la seconda media alla scuola Kosciusko, la quale è molto vicina a casa sua, dista infatti soltanto 300 metri. Carrie quindi percorre il tragitto a piedi tutte le mattine, ma il 16 marzo, durante le lezioni, viene sospesa e rimandata a casa. La motivazione di questa sospensione non è chiara. Le fonti si contraddicono. Alcune riportano che Carrie sia stata sospesa perché è beccata fuori dalla classe a bazzicare nei corridoi senza permesso. Invece un documentario sul caso spiega che Carrie è stata sospesa perché un altro studente le ha lanciato addosso della vernice che le ha macchiato la maglietta e lei, in preda alla rabbia, ha reagito col pendolo. In ogni caso l'insegnante caccia Carrie verso l'ora di pranzo. Lei però confida ai compagni che ha paura di rincasare e spiegare l'accaduto perché sa che sua madre, il suo patrigno e pure suo padre, si sarebbero mostrati seccati e anche delusi a causa del suo comportamento. La scuola però anticipa la questione alla madre di Carrie, Caroline, con una telefonata, ma lei decide di non andare a prendere la figlia. Preferisce che Carrie torni a casa da sola, la aspetterà lì, tanto camminare non le fa male e non c'è pericolo. È passata da poco l'una, poi sua figlia conosce bene quel breve tragitto che percorre quotidianamente. Eppure c'è qualcosa che non va. I minuti passano ma Carrie ancora non si intravede. Caroline attende pazientemente che sua figlia varchi la soglia di casa. Questo però non succede. Di Carrie non c'è traccia. Tuttavia, all'inizio sua madre non si allarma, proprio perché sa che la ragazzina a volte fa la ribelle. Forse se n'è andata a passeggiare da qualche parte. Vuole temporeggiare, evitare di tornare subito a casa e sorbirsi la strigliata che l'aspetta, con annessa l'inevitabile punizione che sua madre le impartirà. Carrie può ben intuire che sua mamma è arrabbiata per la sospensione. Sebbene Caroline in un primo momento non si lasci turbare dal ritardo di sua figlia, col passare delle ore la preoccupazione inizia a farsi sentire. Carrie non è ancora tornata a casa. Caroline, ormai ansiosa, esce attraverso la strada e si rica presso l'abitazione della migliore amica di Carrie, una ragazzina di nome Robin Munt. Le due solitamente vanno a scuola insieme, dato che le loro case sono situate l'una di fronte all'altra. Caroline vuole sapere se la figlia si sia rifugiata a casa dell'amichetta, ma Robin le dice che Carrie non è lì da lei, anzi, non l'ha proprio vista quel giorno. Allora Caroline si mette in contatto con altri amici dei Carrie, ma nemmeno loro hanno idea di dove sia. Le ore continuano a scorrere inesorabili, fuori ormai è buio e Carrie non è ancora tornata a casa. Sua madre Caroline a questo punto non è sicura, deve essere successo qualcosa di brutto. Così avvisa Fred, il suo compagno e patrigno di Carrie, poi va a cercare la figlia lungo le vie insieme a un gruppo di amiche. Gridano il suo nome, bussano alle porte delle case nei dintorni per chiedere se qualcuno avesse visto Carrie. La cercano senza sosta e per tutta la notte, ma non riescono proprio a trovarla. Il giorno dopo, visto che della tredicenne non c'è ancora traccia, Caroline contatta la polizia di Milwaukee per denunciare la scomparsa di sua figlia, Carrie Ann Jopek. Le indagini partono immediatamente, anche se all'inizio la polizia immagina che la ragazzina si sia allontanata di sua volontà. Forse è scappata per timore di affrontare sua madre e il suo patrigno a seguito della sospensione, ma se così fosse, dove può essere andata? È emerso, grazie a Caroline, che la figlia non si è fatta ospitare da nessuno dei suoi amici, quindi con chi potrebbe trovarsi? La prima mossa di Detective è rintrecciare il padre biologico di Carrie. Forse la ragazzina aveva deciso di stare con lui, ma purtroppo anche l'uomo non può fornire alcuna notizia. Lui non era a casa la mattina precedente, stava lavorando e sua figlia non l'aveva contattato. I detective allora provano a ripercorrere gli ultimi spostamenti di Carrie prima che scomparisse. Si sa con certezza che aveva lasciato la scuola all'ora di pranzo, erano circa le 13.30 quando era uscita dall'edificio per tornare a casa, senza però arrivare mai. Come detto, il tragitto che avrebbe dovuto attraversare era estremamente breve. In alcuni minuti sarebbe arrivata a destinazione, quindi cosa le è successo? Per cercare di scoprirlo, la polizia raccoglie le dichiarazioni di tutti coloro che abitano lungo il percorso che Carrie avrebbe dovuto fare. Magari qualcuno ricorda di averla vista, oppure ha notato qualcosa di strano, di sottilmente sospetto. Purtroppo anche questa pista non conduce a una svolta. Intanto la famiglia di Carrie diffonde la notizia della sua scomparsa, creando e appendendo in tutto il quartiere dei poster che raffigurano il viso della ragazzina e forniscono una sua descrizione. Sperano, così facendo, che un numero maggiore di persone si attivi nelle ricerche, o che abbia suggerimenti e indicazioni da comunicare alla polizia. Carolyn contatta anche la redazione del giornale locale per chiedere se vi sia la possibilità di inserire un articolo con la foto di Carrie e la sua richiesta viene prontamente ascoltata. Insomma, lei sta facendo del suo meglio per scoprire cosa sia successo alla figlia. Ma i giorni passano e Carolyn inizia a perdere le speranze. Teme il peggio, perché qualora Carrie fosse davvero fuggita, ormai si sarebbe fatta viva. L'avrebbe di certo chiamata dopo tanto tempo, per evitare che si preoccupasse così. Nel frattempo la polizia segue diverse linee di indagine ed elabora varie teorie su cosa potrebbe essere successo a Carrie. Come detto, i detektivi hanno subito ipotizzato che lei fosse scappata, magari ha un fidanzato segreto di cui la famiglia non è a conoscenza, e ora si trova con lui. Come da prassi, la polizia indaga anche sui componenti della famiglia di Carrie, per accertarsi che non siano coinvolti nella sua sparizione, o che non sappiano più di quanto lasciano intendere. Nello specifico i detective puntano la lente di ingrandimento sul patrigno di Carrie, Fred. Sospettano di lui perché hanno scoperto che, non molto tempo dopo la scomparsa di Carrie, ha fatto dei lavori in giardino. Ha innalzato un nuovo patio di cemento nel cortile sul retro e questo ha fatto scattare un campanello d'allarme nella mente degli inquirenti. I detective adesso sospettano che sia coinvolto nella sparizione della figliastra. Forse Fred ha ucciso Carrie e l'ha seppellita nel giardino sul retro, poi ha posato un nuovo patio sulla sua tomba nel tentativo di coprire per sempre ciò che aveva fatto. Come avevo detto all'inizio del video, Carrie litigava parecchio con sua madre, ma anche col suo patrigno. Da ragazzina schietta e decisa, odiava sentirsi dire cosa doveva fare e questo l'aveva portata a scontrarsi spesso con i suoi familiari, specialmente con Fred, il quale non faceva parte della sua vita da tantissimo tempo. Secondo una fonte, Fred aveva iniziato la sua relazione con la madre di Carrie, Carolyn, circa quattro anni prima che si perdessero le tracce della ragazzina. Quindi all'epoca Carrie aveva otto o nove anni. Carrie non amava ascoltare e ubbidire a Fred. Quando lui le diceva cosa fare, come comportarsi, quale regole domestiche doveva rispettare, Carrie non gli dava davvero retta. Non pensava di dover seguire le sue raccomandazioni a disposizione per chi era il suo patrigno, mica suo padre. Questi loro contrasti, uniti al fatto che Fred ha piazzato un nuovo patio in giardino dopo la scomparsa di Carrie, lo rendono una persona di interesse per le autorità. Un potenziale sospettato che deve essere interrogato. I detective dunque gli chiedono se sappia dove si trova Carrie, se abbia qualcosa a che fare con quello che le è successo. Ma Fred nega, si richiara innocente e dice che non avrebbe mai e poi mai fatto del male a Carrie. Certo, a volte litigavano, ma lui le vuole davvero bene, la considera sua figlia. Ovviamente, la polizia non può credergli sulla parola, deve continuare a indagare per capire se escluderlo definitivamente o meno dalla lista dei sospettati. Gli agenti allora si preparano ad analizzare il terreno sotto il patio appena posato, avvalendosi di un'apparecchiatura chiamata radar penetrante del suolo. Il georadar si serve delle onde elettromagnetiche per scansionare il sottosuolo e catturare delle immagini senza che sia necessario scavare. Forse le foto così ricavate mostreranno che Carrie è sepolta laggiù. In realtà sotto il patio non c'è nulla, quindi Fred viene escluso dai sospettati. Così come il resto della famiglia di Carrie, ormai anche la polizia è convinta che nessuno dei parenti della tredicenne sia responsabile della sua scomparsa. Nel frattempo gli agenti stanno prestando attenzione anche a tutti i suggerimenti forniti dal pubblico. Ne ricevono parecchi su dei potenziali avvistamenti di Carrie, ma portano tutti a un vicolo cieco. Persino Carolyn, per un attimo, aveva creduto di aver visto sua figlia. Un giorno si stava dirigendo al negozio di alimentari del quartiere e si era imbattuta in una ragazzina che sembrava proprio Carrie, alta quanto lei, con gli stessi capelli. Quindi Carolyn aveva urlato il nome di sua figlia, ma presto e amaramente aveva dovuto rendersi conto che quella ragazza non era Carrie, anche se le assomigliava moltissimo. Deve essere stato un triste momento per Carolyn che era davvero convinta di aver finalmente ritrovato sua figlia. Torniamo alle indagini della polizia, che però sono a un punto morto. Non emerge alcuna prova che delinei una traccia e nemmeno si sa se Carrie sia viva o morta. I detective non hanno nulla su cui investigare e, nel tentativo di individuare nuovi sospettati, parlano ancora una volta con la famiglia di Carrie. Vogliono scoprire qualcosa in più sulla sua vita, sulle persone che la frequentavano. Forse Carrie aveva dei nemici? O forse aveva davvero un fidanzato più o meno noto? A questo proposito, la madre di Carrie dice che c'è un ragazzo più grande che probabilmente ha una cotta per sua figlia. Si chiama Johnny Munt, ha 17 anni ed è il fratello maggiore della migliore amica di Carrie, Robin Munt. Carrie e Johnny si conoscevano abbastanza bene, ma Carolyn non era contenta di questo interesse che il ragazzo nutriva nei confronti di sua figlia, sia per la differenza d'età, sia perché Johnny sarebbe un piantagrane. Non so se Johnny fosse noto alla polizia prima di questo caso, ma effettivamente ha dei trascorsi criminali. Commetteva piccoli furti, vendeva pillole illegali e sostanze leggere, procurate a molti adolescenti della zona. Secondo alcune voci, forniva anche sigarette e alcol a ragazzini molto più giovani di lui. Quindi Johnny non ha una buona reputazione e Carrie, non molto tempo prima di scomparire, aveva raccontato a sua madre che lui ci aveva provato con lei, nonostante fosse più grande di quattro anni. Johnny Munt, come detto, vive molto vicino a Carrie, le loro abitazioni si collocano l'una di fronte all'altra, quindi la polizia ipotizza che lui sia coinvolto nella sua sparizione. Forse nel pomeriggio in cui è scomparsa Carrie era andata dall'amica e suo fratello ci aveva riprovato con lei. Però, siccome Carrie l'aveva rifiutato ancora, Johnny si era arrabbiato al punto da diventare violento e ucciderla. Johnny viene quindi interrogato, ma lui afferma di non avere nulla a che fare con il caso. Allora i detective gli chiedono cosa stesse facendo il giorno in cui Carrie era svanita senza lasciare traccia. Lui risponde che quel pomeriggio era a casa da solo e questa, per la polizia, è una risposta da approfondire perché significa che nessuno può confermare il suo alibi. La polizia è sospettosa nei confronti di Johnny, ma la verità è che non ha tra le mani alcuna prova che lo colleghi alla scomparsa di Carrie. Johnny non può essere accusato e arrestato per un reato che la polizia non è in grado di provare, quindi intanto viene rilasciato. In seguito il caso purtroppo inizia a raffreddarsi. Con il passare delle settimane e poi dei mesi, le indagini subiscono una battuta d'arresto. La polizia smette di ricevere suggerimenti e indicazioni e tutti gli altri indizi raccolti si sono rivelati vani. Però all'inizio di settembre 1983, circa un anno e sei mesi dopo la scomparsa di Carrie, si verifica un enorme sviluppo nel caso quando viene trovato un cadavere. Per la precisione è il 2 settembre e a un costruttore locale di nome Conrad Nisiewicz viene commissionato di seguire dei lavori in una delle case nel quartiere dove viveva Carrie, proprio di fronte alla sua abitazione. La madre di Robin e Johnny vuole smontare il vecchio portico per costruirne uno nuovo, così Conrad lo rimuove e inizia a livellare il terreno in giardino. Ma non appena comincia l'attività di scavo viene investito da un odore orribile che proviene da un corpo senza vita. Nel giardino riemerge un cadavere decomposto, sepolto in una fossa poco profonda, e verrà stabilito che appartiene proprio alla giovane Carrie Ann Jopek, scomparsa mentre tornava a casa da scuola poco meno di 18 mesi prima. Quindi i resti di Carrie giacevano nascosti sul retro della casa di uno dei principali sospettati nel caso, Johnny Munt. Comunque appena Conrad fa questa terribile scoperta, contatta la polizia che si precipita sul posto. Carrie era stata posizionata in una tomba sepolta a soli 12 cm di profondità e il suo corpo era annicchiato in posizione fetale. La notizia del ritrovamento di un cadavere si diffonde a macchia d'olio in tutta la comunità e ormai non c'è più soltanto la polizia da girarsi sulla scena del crimine. Tutti i residenti della zona escono dalle loro abitazioni e sostano impazienti all'esterno della casa dei Munt, inclusi i familiari di Carrie. Sua madre Carolyn e il suo patrino Fred si immettono pure all'interno desiderosi di sapere se quel corpo appartenga alla loro adorata Carrie. Purtroppo è così. Carolyn la identifica grazie alla giacca sepolta accanto al cadavere decomposto della figlia, ma bisogna aspettare un paio di giorni per avere la conferma attraverso un'analisi delle impronte dentali. In realtà quanto ho trovato dei Carrie sono ormai soltanto resti scheletrici, i quali indicano che lei era morta da tempo, probabilmente subito dopo la scomparsa, circa un anno e mezzo prima. D'altronde ha ancora addosso i vestiti che aveva messo quel giorno. Dunque i resti di Carrie vengono portati in laboratorio per effettuare l'autopsia e sorprendentemente, nonostante l'avanzato stato di decomposizione, il medico legale riesce anche a determinare la causa della morte della ragazza. È deceduta causa della rottura della vertebra C1 nella parte superiore del collo, vuol dire che qualcuno glielo aveva spezzato causando un'emorragia nel cranio. L'esperto però non riesce a stabilire esattamente cosa avesse determinato la rottura di quella vertebra. Forse l'assassino aveva spinto Carrie violentemente e lei cadendo a terra aveva sbattuto la testa e si era rotta il collo. Oppure mentre era riversa al suolo l'omicidale aveva schiacciato un piede sul collo caricandolo con tutto il suo peso. Oppure ancora Carrie era stata colpita con un oggetto molto pesante. Non è possibile neanche appurare se Carrie fosse stata aggredita intimamente dall'autore del reato, sempre perché quando la trovano è ridotta uno scheletro. In ogni caso ora che il cadavere di Carrie è stato scoperto la polizia deve individuare e catturare la persona che l'ha uccise seppellita in quella fossa poco profonda. Ovviamente i sospetti ricadono subito su Johnny che aveva già fatto sollevare dei dubbi durante le indagini iniziali. Figuriamoci ora che i resti di Carrie sono riemersi da una sepoltura nel suo giardino. Quando il corpo di Carrie è venuto alla luce e gli abitanti della zona sono accorsi sul posto Johnny Munt si è sentito male. Infatti ha vomitato mentre la polizia disotterrava i resti della tredicenne. La sua potrebbe anche essere valutata come una reazione normale nella sua innocenza visto che un cadavere è stato ritrovato nel suo giardino. Ma la polizia crede che Johnny fosse così sconvolto perché è lui il colpevole. Probabilmente era in preda al panico perché ha intuito che presto lo avrebbero arrestato. Johnny dunque viene portato alla stazione di polizia per essere nuovamente interrogato ma rimane fedele alla sua storia originale. Ripete che non ha nulla a che fare con la morte di Carrie che non ha idea di come sia finita sepolta nel reto del suo giardino. Alla fine Johnny Munt si procura un avvocato e ancora una volta la polizia deve lasciarlo andare. La situazione sembra sospetta ma non sussistono prove solide e concrete che colleghino il ragazzo al crimine. Non è stato accertato che Carrie l'avesse seppellita lì proprio lui. Insomma Johnny viene rilasciato senza subire delle accuse ma questo non lo risparmia dall'essere il principale sospettato per questo caso. Agli occhi degli investigatori è lui l'assassino di Carrie o almeno sa più di quanto lascia intendere. Se davvero non l'aveva uccisa lui di certo sa chi era stato a farlo. Il motivo per cui la polizia sviluppa questa teoria risiede in alcune voci che hanno iniziato a diffondersi nella zona ovvero il pomeriggio in cui Carrie era scomparsa si era tenuta una festa proprio nell'abitazione di Johnny perché i suoi genitori e la sorella erano fuori quindi aveva casa libera e a questa festa avevano partecipato molti adolescenti. Dopo questa scoperta la polizia ipotizza che anche Carrie avesse preso parte alla festa. Forse dopo essere stata sospesa da scuola Carrie tornando a casa aveva sentito la musica e intravisto gente che entrava nella dimora dei Mant e aveva deciso di accodarsi. Oppure Carrie sapeva che si sarebbe tenuta quella festa perché Johnny l'aveva invitata e lei aveva cercato di farsi sospendere di proposito in modo da essere libera di partecipare. Mentre era lì forse qualche ospite di Johnny l'aveva adescata poi uccisa e seppellita nel giardino. Ma siccome Johnny era interessato a Carrie probabilmente proprio lui durante quella festa si era riavvicinato a lei con l'intenzione di provarci. Allora lei lo aveva rifiutato per la seconda volta e Johnny si era infuriato e l'aveva uccisa. Tuttavia quelle della festa restano delle voci e la polizia non è in grado di confermare che corrispondano alla verità. Forse quel primo pomeriggio del 16 marzo una festa non c'era mai stata. Lo stesso Johnny sventisce la cosa così come molti altri adolescenti che avrebbero dovuto essere lì presenti. La polizia ancora una volta ha difficoltà a stabilire cosa fosse successo a Carrie, a ricostruire la sequenza degli eventi che l'avevano portata alla morte. Non molto tempo dopo però la polizia avvia una nuova linea di indagine. A una settimana dal ritrovamento del corpo di Carrie gli investigatori vengono contattati da un membro della comunità locale il quale ha recentemente visto un giovane che piangeva angosciato vicino alla scena del crimine. Era da solo in ginocchio chiaramente turbato. Secondo un paio di fonti sollevava le mani verso l'alto in questo modo. Il residente della zona che ha assistito a questa scena ha pensato che fosse piuttosto inquietante ma di rilievo per le indagini, così l'ha comunicato alla polizia. Il vicino è anche riuscito a fornire alla polizia il nome del ragazzo in questione. Si chiama José Ferreira, ha 17 anni e vive nella stessa strada in cui abitava Carrie. Probabilmente i due si conoscono visto che nel quartiere tutti i residenti sono più o meno noti l'uno all'altro. Si scopre infatti che è così, anche se Carrie e José non erano amici stretti. Allora perché José piangeva inginocchiato nei pressi della scena in cui è stato ritrovato il corpo di Carrie? Era semplicemente turbato dall'evento agghiacciante oppure era personalmente coinvolto? La polizia deve scoprire se José Ferreira fosse così sconvolto perché è colpevole di qualcosa, quindi lo interroga. Lui afferma che si sentiva molto triste per quanto è successo a Carrie. È vero, non la conosceva bene, ma era davvero abbattuto riflettendo sulla sua morte. Ecco perché era andato sul luogo del ritrovamento del cadavere. La polizia allora gli chiede della festa a chi avrebbe avuto luogo a casa di Johnny, il pomeriggio in cui Carrie era scomparsa. José vi aveva partecipato dato che viveva nei dintorni? Lui risponde come avevano fatto sia Johnny che gli altri adolescenti interrogati. Non c'era stata nessuna festa quel pomeriggio. Come nel caso di Johnny, la polizia non ha prove per dimostrare che José stia mentendo o che sia coinvolto nell'omicidio di Carrie, quindi il ragazzo viene rilasciato senza accusa a suo carico. La polizia continua a investigare sul caso, interroga ulteriori persone di interesse ed esamina altri potenziali sospettati, ma col passare del tempo il caso si raffredda di nuovo e le indagini si arenano. Quello di Carrie resta un cold case per moltissimi anni e la sua famiglia subisce la tortura di rimanere senza risposte. L'assassina della tredicenne si nasconde da qualche parte, libero di vivere la propria vita. Ma più di tre decenni dopo il delitto di Carrie si verifica un'altra svolta importante che sconvolge tutti. Trascorrono ben 33 anni. Poi, la mattina dell'11 ottobre 2015, Justin Adams, un giornalista che lavora a una trasmissione televisiva di Milwaukee, risponde a una chiamata aggiunta in redazione. Dall'altra parte del telefono, un uomo gli dice «Voglio confessare un omicidio». Inizialmente Justin non prende sul serio il suo interlocutore e crede che sia in vena di scherzi, ma lo lascia parlare. Così l'uomo confessa di essere l'assassino di Carrie Ann Jopek. Lo sconosciuto però non rivela a Justin il suo nome e, poco dopo, l'inaspettata confessione riattacca. Justin allora si mette in contatto con la polizia per avvertirla dell'accaduto, ma gli agenti, mentre provano a rintracciare l'autore della chiamata anonima, due giorni dopo se lo ritrovano davanti, direttamente alla stazione di polizia. L'uomo si sta consegnando di sua spontanea volontà e confessa di essere l'assassino di Carrie. È proprio lui, José Ferreira, che nel 1983, quando aveva 17 anni, era apparso come un potenziale sospettato. Ormai José, nel 2015, ha circa 50 anni. Mentre si costituisce, l'attuale polizia di Milwaukee ammette di non essere a conoscenza del crimine di cui sta parlando, visto che era avvenuto 33 anni prima. I detective che avevano lavorato alle indagini sull'omicidio di Carrie adesso o sono in pensione o sono morti. Gli investigatori con cui si sta interfacciando José non erano ancora nati o erano soltanto dei bambini all'epoca dei fatti, nel 1982. Quindi gli agenti recuperano il fascicolo del caso irrisolto, che ormai ha più di tre decadi di vecchiaia. Poi José Ferreira viene interrogato dal detective Jim Hensley. Il reo confesso tardivo fornisce la sua dettagliata versione di quanto accaduto quel lontano 16 marzo del 1982. José ammette che nel pomeriggio della giornata in questione era davvero in corso una festa nell'abitazione di Johnny Munt. Quindi sia il padrone di casa che gli invitati avevano mentito dicendo che il party non aveva mai avuto luogo. I genitori di Johnny erano al lavoro e tutti questi ragazzini non volevano si sapesse che in occasione della festa avevano consumato sostanze e alcol a volontà. Temevano di finire nei guai con le loro famiglie, da qui la decisione comune di portare avanti quella bugia, negando che il party fosse mai avvenuto. Tornando a José, adesso rivela che quel pomeriggio dopo un po' aveva notato Carrie. Si era davvero unita alla festa a casa di Johnny dopo essere stata sospesa da scuola invece di tornare dalla propria famiglia. José confessa che gli piaceva molto Carrie, aveva una cotta per lei. Carrie per sua fortuna gli si era avvicinata e avevano iniziato a chiacchierare. Proprio lei gli avrebbe chiesto se c'era dell'alcol con cui poteva dissetarsi, ma José aveva risposto negativamente. Tuttavia le aveva offerto un po' della sostanza leggera che portava con sé e che Harry aveva accettato. Così si erano allontanati insieme, avevano raggiunto la porta del seminterrato della casa di Johnny e, siccome era aperta, si erano incamminati lungo le scale per fumare appartati. José poi aveva invitato Carrie a scendere tutti i gradini fino ad addentrarsi nel seminterrato, che secondo una fonte online era la zona della pomiciata. Quindi si trattava di una proposta compromettente. Si ritiene che Carrie inizialmente avesse accettato di seguire José nel seminterrato, ma poi aveva repentinamente cambiato idea, intuendo che José voleva andare fin troppo oltre e lei non era d'accordo, non intendeva concedersi a lui. Carrie aveva espresso la sua contrarietà, desiderava tornare di sopra, ma José continuava a insistere dicendole, tu verrai di sotto con me. Carrie aveva tentato di divincolarsi, allora José l'aveva spinta, facendola cadere all'indietro. Carrie aveva sbattuto violentemente la testa contro la ringhiera delle scale. Ecco come le si era rotto l'osso del collo. José, dialogando con la polizia, afferma che non si era subito reso conto che Carrie fosse morta. Pensava che fosse prima di Sensi, ma questo non l'aveva esortato a chiedere aiuto, piuttosto lui l'aveva colta come opportunità per aggredirla intimamente. José continuava ad accarezzare il seno di Carrie e nel frattempo le ripeteva che era davvero bellissima, ma poi aveva notato che quella povera ragazzina non respirava più, era morta ed era stato lui a ucciderla, perché l'aveva spinta, l'aveva fatta cadere all'indietro e lei aveva sbattuto violentemente la testa contro la ringhiera. Le si era spezzato l'osso del collo. José, come racconta i detective a questo punto, era andato completamente nel panico, non sapeva cosa fare. Aveva pensato di fuggire, di abbandonare il corpo di Carrie nel seminterrato, ma qualcuno l'avrebbe comunque trovata. Siccome forse alcuni invitati avevano notato che lei si era isolata con lui davanti alla porta del seminterrato, in automatico l'avrebbero individuato come il responsabile della morte di Carrie. Così José aveva deciso di nascondere il suo corpo. Sapeva che c'era un piccolo spazio che faceva il caso suo sotto il portico, nel giardino sul retro, dove poteva scavare una buca. Per raggiungerlo aveva attraversato un'altra porta del seminterrato che sbucava direttamente in giardino. Aveva afferrato una pala che aveva scavato la tomba per la sua vittima. A lavoro concluso aveva trascinato il corpo di Carrie fuori dal seminterrato, l'aveva infilato nel buco, rannicchiandolo in posizione fetale, e l'aveva ricoperto di terra. Facendo un passo indietro aveva notato alcune ciocche dei capelli di Carrie che sforgevano dal terreno, quindi aveva ammassato altra terra per coprirle. Incredibilmente nessuno aveva visto José seppellire il corpo di Carrie nel giardino sul retro, anche se lo aveva fatto durante una festa, nel pomeriggio, quando c'era luce. Vero è che tutti gli invitati si trovavano all'interno dell'abitazione a fare baldoria. La polizia chiede comunque a José se avesse ricevuto supporto mentre cercava di occultare il suo crimine, ma lui nega, nessuno lo aveva aiutato a seppellire il corpo di Carrie, aveva fatto tutto da solo. Questa è la versione degli eventi di José a cui la polizia crede. Presumono che lui abbia tralasciato alcuni dettagli che lo inquadrerebbero ancora peggio come persona e come uomo, ma nel complesso il suo racconto risulta veritiero. José è riuscito a farla franca per tantissimo tempo. Il corpo di Carrie non era stato ritrovato fino a un anno e mezzo dopo la sua morte e all'epoca José era pure stato ritenuto una persona di interesse perché un vicino l'aveva visto nei pressi della scena del crimine in ginocchio e in lacrime. La polizia a quel tempo lo aveva interrogato, ma lui aveva negato tutto. Non c'erano prove concrete per dimostrare che fosse lui l'assassino, quindi era stato rilasciato. José ha potuto vivere la sua vita normalmente e la cosa più inquietante o vergognosa è che negli anni successivi all'omicidio José è rimasto in contatto con la famiglia di Carrie. Anni prima di confessare andava spesso a far visita ai suoi parenti, cercava di dar loro sostegno tanto che i familiari della vittima si erano affezionati a lui. Quel ragazzo così gentile a cui ormai erano legati era in realtà l'assassino della loro amata Carrie e non ne avevano la minima idea. Non riesco neanche a immaginare quanto fossero rimasti sconvolti e quanto si fossero sentiti traditi quando hanno scoperto la terribile verità. José intanto aveva continuato a vivere la sua vita indisturbato. Si era anche sposato ma nel 2015 lui e sua moglie erano in procinto di divorziare. Allora José un giorno l'aveva chiamata e le aveva confessato tutto prima ancora di farlo con la polizia a ottobre. Dunque è stata sua moglie la prima persona a scoprire dell'omicidio di José commesso quando lui era un adolescente. Aveva ucciso Carrie Ann Jopek a una festa in casa di un amico anni prima nel 1982. La donna dopo aver ascoltato la confessione del marito si era messa in contatto con la polizia per denunciare ciò che lui le aveva detto. Dopo la telefonata a sua moglie José aveva confessato l'omicidio anche a un'altra persona. Aveva chiamato un numero verde per la prevenzione del suicidio e aveva parlato con un consulente rivelandogli che era l'assassino di Carrie. Gli aveva anche espresso i suoi dubbi con una frase ossia non sono sicuro se uscire allo scoperto in un tripuglio di gloria o rimanere in silenzio. Alla fine come sappiamo José non aveva protratto ulteriormente il silenzio aveva chiamato una redazione televisiva di Milwaukee per confessare l'omicidio. Infine un paio di giorni dopo questa telefonata anonima aveva contattato il dipartimento di polizia di Milwaukee per comunicare le proprie colpe. La domanda che potrebbe sorgere ora è perché José ha confessato dopo così tanto tempo? Ormai l'aveva fatta franca se l'era cavata piuttosto bene nel nascondere a lungo un segreto così orribile. Ce l'ha riuscito per ben 33 anni. Non era mai stato arrestato con un'accusa formalizzata. Quindi perché consegnarsi alla polizia proprio ora? Perché non portarsi il lato più oscuro della sua anima nella tomba? Beh, emergi che José sta combattendo da diversi anni contro le dipendenze. Ha problemi soprattutto legati all'alcol ma anche con le sostanze. José spiega che il motivo per cui ha confessato è uno solo. Veniva perseguitato dal fantasma della sua vittima. José è convinto che lo spirito di Kerry gli stesse alle calcagna da anni spingendolo a confessare. Lui non riusciva proprio a liberarsi di lei, sapeva di non poterle sfuggire perché Kerry non lo avrebbe mai lasciato in pace. L'angosciante sentore di essere perseguitato dal fantasma aveva incentivato in José lo sviluppo delle sue dipendenze. Beveva alcol a dismisura perché, mentre era ubriaco, non avvertiva nessuna presenza. Alla fine aveva concluso che l'unico modo per liberarsi definitivamente dello spirito di Kerry era raccontare la verità, ammettere le proprie colpe e affrontare la punizione per ciò che aveva fatto. Sorprendentemente la madre di Kerry, Carolyn, crede alle parole di José. Anche lei pensa che il fantasma di sua figlia stesse perseguitando il suo assassino. Kerry afferma che Kerry, alla fine, ha risolto da sola il proprio omicidio. Dopo la confessione alla polizia, José Ferreira viene accusato di omicidio di secondo grado. L'uomo si procura un avvocato e, incredibilmente, nonostante avesse già rilasciato una confessione dettagliata sul crimine commesso, decide di dichiararsi non colpevole. Questa mossa gliela ha consigliata il suo legale perché la squadra di difesa è fiduciosa che José riesca a farla franca, dato che, a parte la sua confessione, non ci sono prove forensi che lo inchiodino al delitto. Come sappiamo i resti di Kerry erano già ridotti a uno scheletro quando sono stati trovati. Inoltre, siccome l'omicidio era avvenuto all'inizio degli anni Ottanta, la tecnologia forense non era così all'avanguardia. Ovviamente anche i pubblici ministeri sanno che non sussistono ulteriori prove a dimostrazione che José avesse commesso il delitto di Kerry, quindi sono consapevoli che sarà difficile condannarlo per omicidio. Al contrario, ci sono buone probabilità che non venga riconosciuto colpevole per mancanza di prove, dunque c'è il rischio che rimanga un uomo libero fino alla fine dei suoi giorni. Alla fine, dato che José ha deciso di dichiararsi non colpevole, i pubblici ministeri gli offrono un patteggiamento. Invece di accusarlo di omicidio di secondo grado, lo accuseranno di tentata violenza intima di secondo grado, con l'uso della forza e la detenzione illegale, siccome aveva trattenuto Kerry contro la sua volontà e l'aveva fatta cadere sulla rampa di scale. Se José accetta questo patteggiamento, il procedimento giudiziario sarà più rapido, ma lui riceverà una sentenza più leggera. José Ferreira acconsente, si dichiara colpevole e viene condannato a soli sette anni di prigione. Purtroppo questa è la pena massima che il giudice può infliggergli in relazione alle accuse che gli sono state rivolte. In occasione della pronuncia della sentenza, José Ferreira rilascia una dichiarazione e dice alla famiglia di Kerry «Non posso tornare indietro e rimediare per quello che è successo. Dal profondo del mio cuore mi dispiace». La famiglia di Kerry ovviamente non può essere soddisfatta della sentenza. È molto delusa dal fatto che a José non sia stato imposto un periodo di detenzione in carcere più lungo. Tuttavia allo stesso tempo i familiari di Kerry dicono di essere grati perché finalmente, dopo così tanti anni, hanno ricevuto delle risposte. Per loro Kerry ha comunque ottenuto una qualche forma di giustizia a seguito della sua morte. José è stato condannato nel 2017 e ancora oggi era inchiuso in prigione. Quello che abbiamo ricostruito è il caso di Kerry Anne Jopek, una vicenda davvero triste ma anche molto frustrante. Sono certa che pure voi considerate agghiacciante questa leggera condanna inflitta a José. Soltanto sette anni per aver ucciso una ragazzina di 13 anni. Sono davvero nulla, è vergognoso tutto ciò. Credo che questo sia uno dei casi più controversi che io vi abbia mai narrato. L'assassino è riuscito a uccidere e a nascondere la sua vittima in pieno pomeriggio, all'interno di una casa con dentro una marea di persone. Quindi sono davvero curiosa di leggere le vostre opinioni riguardo allo straziante caso di Kerry Anne Jopek, una giovanissima donna che meritava di vivere una lunga vita in cui esprimere la sua solarità. Come al solito vi aspetto qui sotto nei commenti, non vedo l'ora di leggere tutte le vostre opinioni, tutte le vostre idee, tutti i vostri commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendete cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!